Buonasera, buonasera, siamo molto felici, lui è Guido Catalano, come voi potete immaginare. Lei è Loredana Lipperini. Ma davvero? Ma sì. Orpo. Sì, proprio tu. Allora, dovevamo essere in tre, ma non saremo in tre, per un semplice motivo. Poi apparirà Paolo Di Paolo, ma vi chiederai subito un applauso, perché ieri è diventato papà, è nata Olivia. Una bella notizia. È una bellissima notizia, quindi è arrivata un po' prima Olivia, ma è bellissima e quindi giustamente apparirà con due piccole clip e quindi interverrà lo stesso. Però anche se fisicamente non c'è, è qui con noi. Allora, vi raccontiamo, beh, però, cara signora, ma vogliamo giustificarlo, direi? Eh, scusi, capisco la sua delusione, però davanti a Olivia direi che è il caso di dare delle priorità. Ah, comunque cercheremo di fare del nostro meglio affinché lei sia felice lo stesso. Allora, questa storia che si deve a Nicola Attadio, che è qui da qualche parte, eccolo, che Nicola Attadio ha avuto questa idea geniale. Perché abbiamo, Nicola Attadio ha pensato questa cosa bella, per cui ci sono delle pratiche, dei termini che noi usiamo, che molte persone, molto giovani usano. Per esempio la parola di oggi che è ghosting e che vuol dire una cosa molto semplice. interrompere una relazione d'amicizia o d'amore, sparendo. Allora, questa pratica in realtà era viva anche prima e lo scopriremo insieme a Guido Catalano, che è qui con noi, che applaudiamo, scrittore, poeta. Grazie. Il suo ultimo libro, Cosa fanno le femmine nel bagno? In bagno. Il prossimo libro esce per Feltrinelli. Feltrinelli fra dieci giorni, pensa te. Sono molto emozionato. Non è come avere un bambino, però quasi. Ecco, noi scopriremo con lui, perché l'idea è che alcuni termini, alcune pratiche in realtà esistevano già prima, solo che si chiamavano in un altro modo. Il ghosting, cioè sparire, scappare, si praticava anche nel Novecento attraverso una serie di oggetti che noi abbiamo scelto per voi e sono il gettone, l'interrail e il tutto città, che sono tre cose che alcuni di voi probabilmente ricordano bene. Vi ricordate, vero? Però, allora, cambiano le cose, cambiano i gesti, ma non gli stati d'animo. Io vedo alcune giovani persone qui, scusate se subito comincio a coinvolgermi. E come fate il gesto del ti telefono? Ah, lo fai ancora così. Perfetto. Perché molte persone giovani lo fanno così, con il cellulare. Così come il gesto di... come fate il gesto mi scatti una foto? Eh, come lo fai? Ancora così, quindi ancora novecentesco, mentre molti lo fanno così. E siamo andati a cercare, appunto, che cosa è cambiato e cosa non è cambiato. Però faccio una piccola premessa, perché il gioco è anche cercare di capire che cosa significa ragionare sullo spirito del tempo attraverso gli oggetti. Allora, negli anni novanta, un'antropologa e un'economista, si chiamavano Mary Douglas e Baron Isherwood, scrissero un saggio molto bello che si chiamava Il mondo delle cose. E dicevano che gli oggetti sono coloro che ci restituiscono lo spirito del tempo. In particolare, loro fecero uno studio sui romanzi di Henry James. E dicevano che un passaggio dei bostoniani ci permetteva di indovinare il carattere della cugina del protagonista, perché lui osservava i divani, gli acquerelli, il modo in cui ordinava i libri negli scaffaletti, mentre il protagonista di The Ambassadors capiva, entrando nella dimora parigina di Madame de Vionnet, il suo orgoglio di casta dal modo in cui lei esibiva le miniature e i medaglioni. Stiamo parlando di molti anni fa. All'inizio del Novecento ogni famiglia maneggiava 200 oggetti. All'inizio degli anni novanta ne maneggiava tremila. Oggi credo che abbiamo perso il conto, però la cosa interessante è che alcuni di questi oggetti sono scomparsi. Alcuni li ricordiamo naturalmente, cioè chi è un po' più grandicello della Gen Z ricorda perfettamente cos'è un gettone, forse ricorda anche l'Interrail e forse ricorda anche il tutto città, che dicono la stessa cosa. Ghosting in un modo diverso. Si può sparire, si può sparire semplicemente non facendosi trovare o non telefonando attraverso il gettone, si può sparire prendendo un treno, si può sparire seguendo la mappa della città e non facendosi più trovare. Sono sicura che Guido Catalano è sparito parecchie volte. Sì, io tendo a sparire, ma io continuo a sparire anche adesso, nel senso che parlando di telefonia, ad esempio di telefonia mobile soprattutto, io sono una delle poche persone, anzi non conosco più persone, non conosco più persone che abbiano questo, esiste ancora, è un 3310 nella sua versione diciamo evoluta. Allora, parlando di telefonia e parlando di ipercomunicazione, io non sono ancora passato Loredana allo smartphone, in realtà non sono qui per questo, cioè Loredana non lo sapeva, l'ha saputo mezz'ora fa, in questo non avevo mai pensato al concetto di ghosting, grazie a questo incontro mi rendo conto che questa cosa mi fa un po' scomparire rispetto a tutto il mega flusso di comunicazione in cui noi viviamo. Ultimamente mi sta capitando, soprattutto a causa di Whatsapp, voi sapete cos'è Whatsapp immagino, Whatsapp è questa app, è un'app, è una specie di app con cui tutti comunicano e si mandano messaggi, ecco io non ce l'ho, avendo un 3310 non ce l'ho. Allora, cosa succede? Succede che la gente ormai non mi invita più alle cene. Ma come non ti inviterò più a cena? Eh? Cioè non ti inviterò più a cena? No, sta capitando, cioè io per fortuna ho una fidanzata che ha Whatsapp, e allora anche i miei amici devono chiamare lei per contattare me, il che è assurdo se ci pensate perché mi possono telefonare, cioè io ho un numero di telefono, poi ve lo darò magari così mi telefonate, eccetera. Comunque, a parte gli scherzi, la verità è che io non sono ancora passato allo smartphone, quindi mi sto gostizzando, non so se esiste questo termine, per un motivo, mi piace, mi piace uscire di casa e non essere raggiunto, ok? Io abito qui vicino, siamo andati a cena e tutto quanto, bene, in queste ore che sono fuori casa, a meno che uno non mi telefoni o mi mandi un sms, ma come tu sai, Loredana, gli sms ormai stanno anche loro un po' decadendo, non so se voi li mandiate però, e quindi a me piace, a me piace questa cosa che per un po' di ore sono irraggiungibile, è bello, ora sappiate che quando uno poi passa allo smartphone non può più tornare indietro, ok? Quindi voi non potete tornare indietro se ce l'avete, spesso quando tiro fuori questo oggettino, la gente mi dice, ah che fortunato che sei, non è vero, lo dicono ma non ci credono, In ogni caso vi consiglio di fare un esperimento, se avete ancora uno di questi oggetti in qualche vostro cassetto, prendetelo, una volta che uscite di casa andate al bar, fate finta di utilizzare questo, questo è diventato un oggetto sociale perché quando lo tirate fuori, la gente vi inizierà a guardare e vi farà delle domande, se vi sentite soli ad esempio, vedete una sorta di contraddizione, la gente vi avvicinerà e vi farà delle domande e vi chiederà perché hai questo? Capito? È una roba strana, detto questo io sono felice per adesso di non avere ancora uno smartphone, quindi di non essere raggiungibile quando esco di casa, dico esco di casa perché poi a casa mia ho tutti i device che si usano oggi, ho internet eccetera, però sono felice così, basta. Bello, però allora volevo precisare una cosa che è importante per tutto questo ciclo, perché questo ciclo di Ho perso il Novecento continuerà domani e dopodomani alla Biennale Tecnologia e poi avrà un culmine al Salone del Libro di Torino venerdì 11 maggio. Non è nostalgico, cioè noi non stiamo facendo un'operazione di retromania per cui stiamo lì dicendo come eravamo bravi, come eravamo belli, è proprio il tentare di rintracciare quello che noi siamo stati ma siamo ancora in modi diversi. Il gettone, orgoglio torinese, è nato a Torino nel 1927, il gettone grazie alla Stipel che lo realizzò in occasione della fiera camponaria di Milano in alpacca o in bronzo. Poi nel 1945 la Teti crea il gettone a tre scanalature, costavano pochissimo, 30 lire, poi 45, poi 50 e a un certo punto il gettone che cos'era? Era quella cosa che permetteva di fare, di cominciare a decorporeizzare. Allora, passo indietro, infanzia berlinese Walter Benjamin. Walter Benjamin scrive una cosa meravigliosa sul suo primo approccio con il telefono. Era piccolo e dice la voce senza corpo, voce pura, è come essere un medium, è come gli antichi profeti, è come la voce di Dio che soffia nel deserto e addirittura le interferenze sono i rumori della nascita. Poi però ci si abitua e si associa il telefono a un luogo, quindi io ti sto chiamando a casa o in ufficio o in un luogo dove so che posso rintracciarti. Col gettone no, perché io non so dove tu sei. Se vuoi è il passo intermedio prima del cellulare, perché il cellulare è il trionfo dell'incorporeità. Cioè io non ho bisogno di sapere dove sei, ho bisogno di sentire la tua voce del tutto incorporea, proprio box clamans in deserto. Però già con il gettone si poteva fare. Quindi con il gettone tu chiamavi e potevi anche mentire sul luogo da dove chiamavi. Ti è capitato? No, no, non credo che... Non hai mentito? No, 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 non credo di aver mai mentito sul luogo dove ero, però ricordo bene il gettone telefonico. Soprattutto ricordo che il gettone telefonico aveva anche un valore. Aveva un valore con... Poi hai detto a 30 lire all'inizio. 30, 45, 50. Poi è arrivato a 200. I miei ricordi sul gettone, durante anni 80, sì? Era 200 lire. Io ci compravo anche le cose, anche se non era stato concepito come una moneta utilizzabile, ma si poteva ancora utilizzare. No, però ricordo bene, ricordo bene i telefoni pubblici. I telefoni pubblici, ricordo bene, ricordo bene anche il cambio tra gettone e scheda. E scheda telefonica, no? Scheda telefonica che poi... C'erano anche delle persone che le collezionavano incredibilmente, le schede telefoniche, però la scheda telefonica non è l'oggetto. E quindi sì, lo ricordo molto bene, ne ho anche uno a casa, avrei dovuto portarlo. Sai che balgono? Dicono che balgano, eh? Lo immagino, lo immagino, lo immagino e comunque sia un ricordo molto netto di questa cosa, soprattutto perché per me da bambino erano delle monete, non erano degli oggetti per telefonare. Poi in realtà servivano a quello. Allora, ci sono varie cose da dire sul gettone, perché il gettone era veramente un oggetto simbolico. Da una parte, vi ricordate forse qualcuno di voi la collana in Audi degli anni 50, che si chiamava i gettoni. C'era un modo di dire terrificante, ero bambini, ragazzetta, diciamo così negli anni 60-70, che era, chiamo la mamma, gettono la vecchia. Non era molto gentile, ma si diceva. E poi c'era una cosa, ecco, la cosa che ricordo io è un'altra. Nel 1976 io ho cominciato a lavorare a Radio Radicale, avevo vent'anni, e Radio Radicale era una delle prime radio libere. In capo a un anno, era il 12 maggio del 1977, quando a Roma si tiene una manifestazione che diventa un accerchiamento delle forze di polizia, con gli agenti in borghese travestiti da autonomi, quel giorno viene uccisa Giorgiana Masi con un colpo di pistola alle spalle, sparato dalla parte della polizia. Radio Radicale fa una diretta di tutto il pomeriggio, e quella diretta si basa sul telefono al gettoni, perché persone di ogni tipo, uomini, donne, ragazze, ragazzi, vecchi, adulti, appena trovavano una cabina telefonica, o un gettone disponibile, o un telefono disponibile, mettevano i gettoni e chiamavano la radio. E ancora disponibile quella lunga, lunga trasmissione di oltre tre ore su Radio Radicale negli archivi, che è fatta grazie alle testimonianze di persone che scappando dai lacrimogeni, scappando dai colpi di pistola, chiamavano la radio con i loro gettoni, e testimoniavano quello che stava avvenendo. Quindi telefonare con il telefono al gettone era anche in quegli anni, negli anni settanta, un modo di fare giornalismo, un modo di dare testimonianza, un modo che oggi forse non riusciamo neanche a concepire, ma che è stato il primo momento in cui forse abbiamo provato a incidere sulla realtà circostante. Ci hai mai pensato, Guido? No. Eh, ci faccio pensare io, non c'è problema. Grazie. Non ci ho mai pensato. Cioè, adesso ci penserò. Perché sei più giovane di me, in realtà. Sì, ma neanche troppo. Avrei dovuto pensarci. Cioè, non sono così giovane da non averci dovuto pensare. Però era una cosa, ecco, questa è una cosa, perché le radio vivevano di questo. E non tutti chiamavano da casa propria. perché negli anni settanta c'erano anche delle case senza telefono, ancora. Adesso ci sembra impossibile. C'era anche il duplex. Ve lo ricordate il duplex? Cioè, volevo dire che praticamente due famiglie, incredibile adesso pensare, quindi se uno chiamava l'altro non poteva chiamare. Il duplex. Io non l'ho mai avuto, ma il mio caro amico aveva il duplex. Quindi se io chiamavo c'erano i vicini che stavano... Interessante. Sì, perché però l'atteggiamento... Adesso io ho parlato dell'esserci, però noi in realtà parliamo del non esserci questa sera, cioè del ghosting. Quante amicizie, quanti amoretti in realtà prima che si immaginasse soltanto la parola ghosting sono finiti perché qualcuno spariva. E cosa facevi a quel punto? Lo andai... A casa non ti rispondeva. Se non aveva un telefono e non usava i gettoni non poteva chiamarti. Cioè si fuggiva moltissimo oggi come ieri. Era facile, soprattutto era facile fuggire però. Era molto molto facile fuggire a prescindere dal gettone. Oggi è impossibile fuggire. Tu dici che è impossibile? È complicato. È complicato nel senso che se fuggi comunque ti beccano. Ti beccano. Sanno che stai fuggendo, cioè non hai proprio... è una fragatura in realtà. Beh sì, io due giorni fa ho letto una notizia su New York Times che devo ancora metabolizzare perché non lo sapevo, eh. Cioè perché arrivo tardi. Sono una persona curiosa ma arrivo tardi. Ho scoperto che in Colorado hanno appena emesso una legge per proteggere i dati neurali. E tu mi dirai perché i dati neurali? Perché se si fa un elettro... L'encefalogramma quei dati sono protetti. Eh sì, ma non sapevo che esistessero le fasce per la meditazione che usano i tuoi dati neurali collegati a un'app per dirti se stai meditando bene. Non solo. Esistono anche spaventatevi un po' delle fasce che si... per bambini che con le onde cerebrali possono far volare un elicotterino o un piccolo aeroplanino. esistono anche delle fasce cerebrali collegate a un'app per cui tu se vai in un sito di appuntamenti online ti dicono no, questo no, questo no, questo no. Questo non ti piace veramente perché il tuo cervello reagisce in un certo modo. E le aziende le usano. E quindi in Colorado non si può più. In altri paesi sì. Allora effettivamente sì, fa paurissima. Sembra di essere dentro Philip Dick. E è vero quello che dici e diventa molto difficile sfuggire perché se già sanno i miei gusti grazie a un algoritmo ma sanno anche cosa cosa fa il mio cervello forse un po' di paura ce l'ho. Guarda, io non sono un come si dice non tendo al come si dice quando uno tende al pessimismo. No, no, no. Ottimismo. Sono un ottimista. Sono un ottimista. No, un complottista però a me capita veramente capita veramente di parlare magari con te di un aspirapolvere sì e poi beccarmi l'algoritmo ma non ci credo io però non credo non credo che ci ascoltino sappilo io non ci credo e fai male perché non è che ci ascoltino è perché ormai è un sistema che io sono ovviamente ci vorrebbe qualcuno di molto competente io sono solo una curiosa però se uno stato degli Stati Uniti ha deciso di fare una legge No, mi è venuto in mente per quella roba lì cioè nel senso non so come facciano a beccare i tuoi pensieri li registrano come? li registrano ma come fanno a registrarli? Con una cuffietta una cuffietta la stessa che tu usi per l'elettroencefalogramma che si trova su Amazon se poi fate la ricerca fasce per assistenza alla meditazione lo trovate e vi arrivo a casa vabbè lo accetto no, dai parliamo di fughe sì allora poi ovviamente a un certo punto solo per la signora ma anche per tutti apparirà anche Paolo stiamo cercando di collegarci con lui perché almeno in due momenti ci dirà delle cose e noi siamo molto curiosi siamo nel 1972 e inizia il programma Interrail il programma Interrail per viaggiatori di meno di 21 anni in 21 paesi qualcuno forse l'ha sperimentato forse qualcuno no ed era un meraviglioso modo di fuggire faccio una piccola premessa poi lascio parlare Guido che cosa era successo prima? Prima c'era c'era stato il movimento hippie e cosa faceva il movimento hippie? scappava vi ricordate tutte quelle canzoni i Beatles She's Living Home i Pooh piccola Katie che se ne sta andando di casa i nomadi io vagabondo che me ne vado il vento sulla pelle ciao c'era un po' la cultura della fuga c'era stata la Summer of Love 1967 e Woodstock nel 1969 e soprattutto c'erano stati gli hippie trails 1969 e 1971 erano i viaggi le fughe si partiva da Atene Istanbul Iran Kabul Kathmandu ed era il viaggio di quegli anni ma in quegli anni era anche il momento in cui fuggire lasciare la propria casa lasciare la propria famiglia era uno stato d'animo ed era l'Interrail in questo caso aiutava a realizzare se vuoi in modo un po' meno avventuroso ma possibile questo desiderio comune tu l'hai provato? l'ho provato in un momento importante della mia vita ho fatto la maturità e quindi sono uscito finalmente dal liceo qui di Torino liceo Massimo da Zeglio ho fatto sei anni perché volevo approfondire sono uscito con il minimo dei voti alla maturità modestamente unico unico in classe con 60 ai tempi erano 60 su 60 su 100 e ho fatto questo viaggio con l'Interrail appunto che costava poco peraltro adesso è cambiato l'Interrail ai tempi era più più libero con i miei amici con 3 o 4 amici siamo andati ricordo bene abbiamo fatto tre posti importanti abbiamo fatto l'Olanda Londra e Parigi e ho in effetti un ricordo di grande libertà devo dire anche legato al fatto che avevo finalmente finito diciamo le scuole dell'obbligo e quindi avevo davanti la vita la vita il anche paurosamente nel senso che avevo davanti una vita speravo lunga però adesso è stata abbastanza lunga fate le corne per me comunque sia avevo un futuro davanti e quindi quella vacanza dopo la maturità con l'Interrail in effetti è stato un momento importante poi in realtà siccome sono uno che non ama tantissimo viaggiare sono tornato prima a casa ma come sei tornato prima? sono tornato prima ma come? mi sono otto le palle sì lo ammetto sono una persona strana ho il Nokia però comunque sì però sono andato per gli altri sono andati avanti ancora un po' io mi sono annoiato ma è un mio problema cioè davvero però figo figo grandi treni grandi treni grandi treni anche fatica perché comunque viaggiare in treno per ore ore è faticoso però figo però si poteva anche dormire in treno non riesco a dormire in treno e la miseria ma tutto che tu ce l'hai non riesco cioè non riesco a dormire da nessuna parte che non sia il mio letto io invidio tantissimo quelli che riescono a dormire in viaggio perché è un viaggio nel treno è una sorta di come si dice annulli il tempo no? se devi fare otto ore di viaggio e dormi pam io invece me le succo scusate il termine francese tutte le otto ore tutte me le succo una cosa bellissima che è il rumore bianco quando ci sono come è successo a me oggi persone che ascoltano i vocali a tutto volume che fanno tutte le call di lavoro una volta qui a Torino mi è capitato anche di avere davanti due tagliatori di teste che dicevano davanti a me i nomi e cognomi di quelli che volevano licenziare io volevo ucciderli però insomma metti il rumore bianco dentro le tue coffiette e vai ci proverò sì ne ho sentito parlare si usa anche con i bambini sì 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 dormi con un bimbo però sai secondo me se sei sensibile a quella roba lì io non credo non credo però metteremo ti faccio sapere pur di scappare tagliatore di testa ti assicuro che probabilmente forse abbiamo no no niente perché stiamo aspettando che ci arrivino due videomessaggi del neopapà di Paolo di Paolo che arriveranno però una cosa a cui però pensavo è che questo desiderio di fuga se ci pensate la fuga è sempre qualcosa che abbiamo desiderato tutti ammettendolo non ammettendolo nell'età dell'adolescenza nell'età della maturità un po' il desiderio di dire va bene vado cioè io che sono una vecchia signora quando sento io vagabondo dei nomadi che era la canzone della mia adolescenza ho detto è vero eh il vento sulla per quella roba lì bella adesso è più difficile perché in effetti non solo c'è chi l'ha visto per cui tu non riesci a scappare se vuoi perché ti beccano sempre c'è sempre qualcuno che dice l'ho visto e lì adesso è impossibile è quasi impossibile scappare infatti io ho sempre avuto un sentimento ambivalente nei confronti di chi l'ha visto perché dico ma se uno vuole scappare ma santa miseria ma mi vuoi certo ci sono dei casi in cui invece interviene giustamente risolve delle situazioni dolorose però quella roba là oh ma ve lo ricordate Mediterraneo di Salvatores 1991 mi sono appuntata perché è bellissima la frase di chiusura Henri Labory in tempi come questi la fuga è l'unico modo per mantenersi vivi e imparare a sognare e poi è arrivato chi l'ha visto e quindi dici non si può fare una delle trasmissioni tra l'altro più di successo e antiche e resistenti della storia perché è una cosa che interessa e interessa la gente al pubblico interessa questo tema no gente che scompare e gente che la cerca anche se magari non vorrebbero essere cercati forse chi lo sa chi lo sa beh perché è una cosa interessante forse abbiamo Nicola Taddio mi fa un cenno forse abbiamo la prima clip di Paolo di Paolo è così guardiamola allora se ci riusciamo perché eccolo quando penso agli oggetti che siano di un secolo smarrito anche soltanto di un'età della nostra vita attraversata penso a un verso di un poeta latino Virgilio che parla delle lacrime delle cose sunt lacrime rerum forse aveva intuito qualcosa che la poesia novecentesca ha poi chiarito completamente che non sono solo materia inanimata gli oggetti ci guardano forse ci ascoltano e non sto giocando con il misticismo ma sto dicendo che appunto sono spettatori forse innocenti della nostra vita ma partecipi credo che uno possa raccontare di sé senza nemmeno raccontarlo lo disvela lo disvela senza pudori senza vergogne più cose a una lavatrice che è un essere umano perché quella lavatrice ci ha visto disperarci ci ha visto in momenti di totale sconforto ecco e allora mantengono in qualche modo memoria di noi non siamo noi a mantenere memoria di loro è che appunto quel vecchio portachiavi il gettone telefonico rimasto al fondo di un cassetto inservibile anche la musicassetta che non ascolterò più si carica di una corrente emotiva che trasforma quella materia inanimata la fa palpitare la rende romanzesca e perciò la poesia si incarica spesso di restituire la vita agli oggetti la vita degli oggetti potremmo dire citando il titolo di una raccolta di un poeta polacco Adam Zawgajewski una straordinaria raccolta che si chiama Dalla vita degli oggetti e spesso penso proprio che gli scrittori le scrittrici abbiano anche questo compito quello di far parlare questi testimoni innocenti ma non inerti della nostra esistenza quando ricostruiamo le nostre biografie certo sono affollati di esseri umani ma non sono raccontabili completamente se non ci mettessimo dentro anche le auto che abbiamo guidato o non guidato certe paia di scarpe e appunto monete o videoregistratori se quell'epoca l'abbiamo attraversata inservibili musica sette c'è tutta una folla di piccoli pezzi di cose che si accumulano potrei citare migliaia di pagine letterarie in cui si vede proprio questo questo agire degli oggetti restituendo il segreto di un'epoca penso a una pagina di Thomas Pynchon che parla delle macchine che vengono poi portate dallo sfascia carrozze e resta sempre qualcosa in una tasca laterale in un portabagagli sotto un tappetino qualcosa che rimanda a chi appunto ha vissuto con quell'auto e allora ecco che torna al passato questi oggetti caricandosi di questa elettricità rimandano indietro una memoria l'ultimo esempio che voglio fare in questo primissimo ragionamento è intorno agli oggetti della nostra vita agli oggetti di ciò che abbiamo smarrito che abbiamo smarrito e di ciò del tempo che abbiamo smarrito ha a che fare con un esperimento incredibile fatto da Oran Pamuk il premio Nobel per la letteratura che vinto quel premio ha deciso di mettere in piedi un museo l'ha chiamato Museo dell'innocenza è a Istanbul si può visitare a me è capitato di farlo nel febbraio scorso e sotto Teca ci sono miriadi di piccoli oggetti che rimandano all'epoca dell'amore di due personaggi romanzeschi una storia d'amore che esiste solo nella finzione ma gli oggetti sono lì e sono per l'appunto oggetti del passato sono vecchie cartoline sono segni di rossetto su un bicchiere sono anche gettoni telefonici e piccoli oggetti di pessimo gusto nelle case nelle stanze sono centrini sul televisore l'ha chiamato con un'espressione secondo me geniale il catalogo di questo museo l'innocenza degli oggetti grazie Paolo poi ce ne sarà un altro di chiusura lui ha detto una cosa Paolo Di Paolo ha detto una cosa giustissima per chi scrive ma non solo per chi scrive gli oggetti sono pane c'è un bellissimo intervento di Shirley Jackson che è contenuto in paranoia che raccoglie alcuni dei suoi racconti e soprattutto delle magistrali lezioni di scrittura dove lei parla di una cosa semplicissima un giorno stavano giocando a carte a casa con degli amici e suo marito e qualcuno spegne un sigaro in una ciotola di terracotta e quella ciotola esplode e cade a terra e lei dice ferma quella ciotola mi servirà ogni volta che dovrò descrivere un sentimento di paura perché è avvenuto improvvisamente un sentimento di perdita perché io amavo quella ciotola una cesura fra un momento della mia vita e un altro cioè attraverso gli oggetti noi possiamo raccontare uno stato d'animo noi stasera appunto parliamo di ghosting scegliendo un oggetto di fatto e due modalità per così dire però è vero cioè ognuno di noi può raccontare una storia partendo da qualche cosa che magari abbiamo dimenticato che fa parte del nostro passato come il gettone per l'appunto oppure che ci permette di immaginare un mondo e passo a tutto città che è il terzo elemento di questa serata tutto città nasce nasce negli anni lontani perché fino al 78 erano le ultime pagine delle pagine gialle sostanzialmente poi nell'81 diventano un fascicolo separato e tale rimarranno fino al 2014 giusto dieci anni fa quando moriranno che cos'è tutto città? beh se un pochino amate la letteratura fantastica sapete che ogni volta che si racconta un mondo ci vuole una mappa senza mappe non si può raccontare lo ha fatto Tolkien naturalmente ma non soltanto Tolkien tutti coloro che volevano immaginare un luogo dove camminare dove far svolgere un'avventura dove si ama si soffre si muore e non potevano prescindere dalla mappa poi quella mappa poteva diventare viva cioè i surrealisti avevano inventato questa pratica che era la psicogeografia le derive psicogeografiche era una cosa apparentemente molto semplice quasi infantile si andava si vagava per le strade della città e si registravano le proprie emozioni questa via mi fa star male quest'altra mi rende felice l'hanno ripetuto ripetuto questo esperimento la deriva psicogeografica oggi si chiama esplorazione urbana si chiama urban urbex anzi sono coloro che vanno a esplorare però un atteggiamento che è rimasto da allora tutto città ci aiutava ci aiutava a capire dove eravamo oggi certo c'è google maps ci sono i navigatori ci sono tante cose ma non è la stessa cosa ai tempi non c'era automobile senza un tutto città dentro tutto città partiva dalle pagine gialle era un inserto diciamo un inserto staccabile però io non mi ricordo non c'era un automobile senza un tutto città dentro e io ricordo da bambino ancora prima di avere coscienza di tutto città le prime volte che sono salito su un taxi mi chiedevo come fanno i tassisti stiamo parlando degli anni fine settanta inizio ottanta come fanno i tassisti a sapere tutte le strade in realtà anche i tassisti avevano una specie di tutto città avevano un librone una specie di bibbia uno stradario che non usavano quasi mai questi signori a qualche signora probabilmente erano più uomini negli anni settanta ottanta avevano tutte le strade in mente questo è incredibile oggi oggi c'è google maps ci sono quindi non aveva più senso anche se probabilmente non siamo più in grado se a un certo punto scomparisse la possibilità di usare google maps saremmo fregati chiaramente la maggior parte di noi probabilmente non saremmo neanche più in grado tanto di utilizzare una mappa chi lo sa le mappe sono importanti ma vanno lette bisogna capirle le mappe non è come google maps che ti dice gira destra gira sinistra gira destra però 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 fighissimo io con questo telefonino google maps me lo sogno quindi chiedo aiuto in realtà chiedo indicazioni io chiedo indicazioni e la cosa divertente è che quando chiedo indicazioni penso adesso questa persona a cui sto chiedendo indicazioni si chiederà perché gli sto chiedendo indicazioni dato che dovrei avere uno smartphone con google maps capito forse impazzirò no non impazzirai però io stavo ragionando perché siamo partiti dal gettone poi abbiamo parlato dell'interrail abbiamo parlato dell'interrail ci torniamo se volete ancora perché l'interrail è uno dei modi più belli per un'intera generazione di poter visitare tanti luoghi spendendo poco spendendo poco spendendo molto poco e adesso abbiamo parlato di mappe che in fondo sono collegate al concetto dell'interrail al concetto del viaggio al concetto della fuga allora io però forse la trovo una differenza fra il passato e l'oggi perché è vero che gli atteggiamenti sono simili però noi non riusciamo tanto a non essere rintracciabili oggi lo siamo sempre ovviamente però vogliamo anche un po' esserlo a parte te che giri appunto con l'inocchio noi vogliamo essere rintracciabili no ci mancherebbe no 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 noi vogliamo tutti noi vogliamo le altre persone a meno che tu non abbia dei problemi di nevrosi o di psicosi per cui ma noi vogliamo essere vicino agli altri secondo me il problema è che adesso siamo troppo vicino agli altri cioè ogni tanto oggi diventa difficile prendersi uno spazio di ah di come si dice di solitudine sì no secondo me anche però secondo me è anche un discorso anche abbastanza inquietante per cui vogliamo pensiamo che sia possibile controllare tutto eh essere controllati e controllare è qualche cosa che e per quello secondo me accade il ghosting io non so non mi sembra di aver mai fatto ghosting in realtà nella mia vita ma dici sparisco non voglio che mi trovi in ambito diciamo di rapporti amicizia amore perché poi il ghosting si usa in quel campo là sì 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 non mi sembra di averlo mai fatto credo magari invece mi dimentico le cose però credo di no però c'è un motivo per cui secondo me in realtà si parla così tanto di ghosting perché siamo troppo sotto i riflettori siamo troppo controllati e controlliamo tanto credo forse sì 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 tendiamo tra l'altro non solo a essere controllati ma a voler cioè faccio un esempio io adesso ho detto mi piace tantissimo la solitudine adoro sono un figlio unico sono stato abituato alla solitudine e mi piace stare solo però mi piace anche tantissimo avere a che fare con le persone e tutto quanto ho una fidanzata ho una fidanzata e se io non sento la mia fidanzata per sei o sette ore sette otto ore e la chiamo e lei non mi risponde perché chiaramente sta facendo altro non succede niente dopo venti minuti la richiamo inizio a dire ah cosa sta succedendo la richiamo la terza volta e inizio ad avere l'ansia ai tempi del gettone telefonico questa roba non succedeva non succedeva perché non poteva succedere semplicemente se io ti chiamavo a casa e tu non c'eri fine ai tempi del viaggio in interrail non poteva succedere ovviamente perché il viaggio era lungo e tra l'altro io non chiamavo mia mamma per 15 giorni magari perché ero un figlio degenere ma comunque si hai capito e mia mamma e mia mamma però non si preoccupava più di tanto cioè capito vabbè una volta a settimana la chiamavo oggi è impossibile pensare che un figliuolo che va in giro chiami sua mamma una volta a settimana è impossibile a meno che non disattivi le spunte blu di whatsapp e non si voglia far trovare no vabbè sono cambiate le cose ma va benissimo così tutto cambia cambia ma non cambia perché secondo me il desiderio di fuga in realtà segreto c'è sempre certo che oggi non c'è più l'interrail ci sono altri modi certo che non c'è più il gettone telefonico ci sono tranne te gli smartphone non c'è più tutto città però ci sono i navigatori c'è google maps che all'inizio tra l'altro era affascinante io mi ricordo che rimanevo colpita da questa ve lo ricordate l'immagine di google maps il primo google maps negli anni zero sui computer quando tu impostavi una ricerca c'era l'immagine della terra vista dallo spazio e tu improvvisamente ti tuffavi sempre più in basso sempre più in basso fino ad arrivare nel luogo che desideravi e quindi capivi dove volevi andare ecco c'è tutto questo però in realtà quell'istinto quell'istinto adesso non so se c'è già la seconda il clip di paolo di paolo perché paolo di paolo dovrebbe aver fatto una piccola ricognizione letteraria su questo stato d'animo ovviamente gli scrittori le scrittrici i poeti e le poete nei secoli hanno sempre cantato il desiderio di fuga da omero in poi perché insomma cosa ha fatto se non in realtà anche fuggire prima di tornare a itaca cioè c'è sempre stato il desiderio di andare altrove c'è stato sempre il desiderio di non farsi trovare sì poi c'è stato Kirouac ovviamente che è stato un po' il manifesto della fuga con on the road ma se abbiamo la seconda clip faccio guardo il tecnico con gli occhi sì lui mi risponde sentiamo dove ci porta attraverso quali letture paolo di paolo tra i pezzi del racconto di oggi metto un accento sull'interrail che ha appena compiuto 50 anni e non è un'esperienza del tutto sommersa anzi resiste però averla fatta entro il novecento ha significato evidentemente qualcosa di diverso da oggi implicava comunque una latitanza come gran parte dei viaggi prima del telefono portatile chiamiamolo così e quindi dentro lo zaino non ci finisce certo il caricabatterie ma la saponetta bisogna stare leggeri quindi quante paia di mutande di calzini e quanti ostelli si prenotano per esempio questione radicale in anticipo forse nessuno è un tipo di viaggio che implica una certa confidenza nell'imprevisto una certa fiducia negli sconosciuti ecco l'interrail è una sorta di educazione ferroviaria e sentimentale di massa tenuto insieme le esperienze di diverse generazioni e poi sicuramente era un modo per attraversare l'Europa prima del low cost aereo treni di seconda classe che percorrono un continente che è ancora una comunità più ideale che reale e comunque il controllo documenti al passaggio di confine che oggi viene segnalato soltanto dal messaggio che avvisa del nuovo gestore telefonico ecco quel controllo documenti era comunque il segno di una mappa diversa fa quasi tenerezza ritrovare come ho fatto l'intervista a una ventenne in partenza poco prima che cadesse il muro estate 1989 il treno offre incredibili vantaggi dal punto di vista economico spedire le biciclette ci costa solo 9100 lire una volta arrivate a destinazione vengono custodite nel caso di nostro ritardo a sole 2000 lire al giorno ma quei treni dell'interrail ancora negli anni 80 li racconta benissimo Pier Vittorio Tondelli lo scrittore degli anni 80 dell'atmosfera del colore degli anni 80 e in un volume intitolato Weekend Postmoderno che raduna una quantità di racconti non solo di viaggio ma anche esperienze culturali insomma è davvero uno zibaldone impressionante di esperienze che hanno a che fare con quegli anni racconta in un capitolo bellissimo i colori dei treni perché i treni hanno un colore dentro e fuori e lui parlando dalla stazione centrale di Amsterdam ecco evidenzia questo stupefacente colore giallo e azzurro squillante dei treni che arrivano ad Amsterdam non ricordano né i vagoni della sotterranea di Manhattan decorati da nonimi ragazzi del Bronx fanatici di vernici spray scrive Tondelli né tantomeno i colori dei treni e degli autobus delle nostre città ma contribuiscono a dare al visitatore appena arrivato quel colpo d'occhio di colore di giocosità forse non proprio di eleganza certo di modernità tipiche di una città famosa per la sua tolleranza e per la civiltà dei suoi abitanti la capitale europea di un turismo giovanile che per decenni è qui approdato inseguendo il sogno di un paradiso terrestre in cui musica rock droghe leggere rapporti sessuali abitazioni sussidi disoccupazione servizi sociali fossero veramente alla portata di tutti una città in cui il potere della fantasia dell'immaginazione potesse realmente concretizzarsi diventare quotidianità essere la realtà ecco qui ci racconta attraverso i treni anche i desideri di un'epoca grazie grazie Paolo Di Paolo per i suoi suggerimenti di lettura ma Guido che cosa ti viene in mente hai un libro una poesia che puoi associare adesso rimaniamo sul tema il ghosting lasciamo abbandoniamo e salutiamo con tenerezza il gettone l'interrail e tutto città ma la questione dello sparire che cosa ti fa venire in mente io l'ho fatto più che poesia io sono stato un ho fatto quella roba lì e mi dispiace di averlo fatto in realtà il ghosting però quello uno a uno uno a uno la fuga totale da una da una storia d'amore e sono molto bravo a farlo tra l'altro ho scoperto di essere bravissimo un protocollo il protocollo catalano lo posso anche se mi interessa prego il protocollo catalano significa oggi il ghosting è più difficile di una volta se parliamo di ghosting ma in generale sia il ghosting tra persone sia il ghosting in generale ci sono i social ad esempio 30 anni fa non c'erano i social quindi era molto facile scomparire oggi ci sono anche le telecamere tra l'altro in tutte le strade ci sono telecamere dunque è molto difficile sparire quando qualcuno sparisce io ho un amico che è sparito ad esempio tanti anni fa mi ha detto come ha fatto a sparire non so se sia morto se è sparito ma oggi come oggi sparire è proprio difficile anche perché veramente siamo monitorati un po' da tutti i punti di vista quindi io sono io ho fatto del ghosting personale l'ho fatto appunto con un paio di ragazze una in particolare ma sono contento di averlo fatto l'ho fatto per sopravvivere sì sì e lei è sopravvissuta quindi benissimo detto detto sì è vero e sì siamo sopravvissuti però ci sono momenti in cui andarsene andarsene e bloccare tutto è assolutamente fondamentale secondo me non è non è un atto di come si dice di come si dice diviltà diviltà no non lo è in alcuni momenti bisogna proprio prendere e dire andarsene sì secondo me sì nel rapporto diciamo uno a uno poi detto questo poi ripeto io sono uno che cerca di avere un'autonomia cioè cerco di davvero di quando esco di casa soprattutto voglio non essere raggiunto e riesco a farlo con questo telefonino poi ripeto fra qualche mese arriverò con un iphone 14 e mezzo da 3200 euro con che fa anche il caffè tra l'altro quindi non è detto però mi piace molto stare staccato dal dal supercoso allora a me viene in mente una cosa forse così a conclusione perché non credo che ci siano altre clip da parte di Paolo di Paolo che ringraziamo sempre e biva Olivia scusate biva Olivia soprattutto biva la bambina nuova perché è sempre una notizia bellissima forse il ghosting più inquietante letteralmente più straordinario che mi viene in mente per chiudere è la montagna incantata di Thomas Mann perché quando Hans Kastorp si rifugia al Berghof prima per andare a trovare il cugino ma poi ci rimane e rimane anni separato dal mondo scomparso dal resto del mondo sospendendo il tempo perché non vuole esserci in quel tempo in realtà beh quella è la più straordinaria operazione di sparizione salvo poi quando scoppia la guerra essere costretto a scendere a valle e a essere con gli altri vivo o morto noi non lo sappiamo perché Thomas Mann non ce lo dice e la cosa che mi viene in mente visto che siamo comunque in tempi oscuri e che sono delle parole che diceva un illustre come Norberto Bobbio nel 1945 e che si prestano anche al ghosting in senso generale Hans Kastorp quando si fa una scelta di lui la chiamava purità di dedicarsi soltanto al proprio lavoro distraendosi del resto del mondo pensando di non fare politica in realtà si fa cattiva politica e anche quella è una scelta quindi forse si può sparire ma poi c'è sempre qualcuno che ci riporta a valle a dirci beh ragazzo mio o ragazza mia non puoi perché non si può più di tanto essere fantasmi perché prima o poi siamo costretti a dover tornare nel mondo questo mi viene in mente e questo è forse qualcosa che deve interrogarci tutto tutti al di là poi del bellissimo gioco che abbiamo fatto insieme questa sera grazie Guido Catalano grazie Riccola Tadio grazie circolo dei lettori e grazie a voi che siete stati qua evviva grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti